Seconda puntata, quella di ieri 22 settembre 2022 del grande Fratello Vip, una seconda puntata che si è appalesata in tutta la sua bellezza, in tutto il suo fascino e soprattutto con a sorpresa le nomination, alzando a dire particolari. In particolare, ad essere i più votati, sono stati Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis, però il coduttore, ossia il buon Alfonso Signorini, non ha aperto alcun televoto per lui soltanto alla punizione di vivere per qualche notte nella cosiddetta casa delle bambole. E' stata una bella puntata, non è stata affatto malvagia, anzi è stata molto piacevole. I due vanno in nomination, ripeto, Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis, però senza alcun tipo di rischio. Accanto al buon Alfonso Signorini, che è il conduttore di questa trasmissione, anche la bella cantante italiana Orietta Berti e la moglie di Paolo Bonolis, ossia Sonia Bruganelli. E, tra l'altro, il studio rappresenta anche Giulia Salemi per reggere tutti quelli che sono stati i commenti che il Popolo del Web ha pubblicato. Beh, vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, cari utenti di YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo, io grazie a tutti. Grazie.